Dai dai che riesci, dai 3, 2, prendilo, no vabbè ma io non ci voglio credere Eeeh, salve a tutti ragazzi, bentornati su Matmanemiche, eccoci, eravamo arrivati qua, dovevamo parlare col cipollotto Mi sa che l'ultimo mondo, o gli ultimi livelli è poi c'è il boss, un paio d'episodi è finito I miei chef sono tornati, siete riusciti a farvi strada in mezzo all'orda? Siete il flugido esempio di lavoro di squadra, hanno paura di voi e ciò significa che siete quasi pronti ad affrontarli Dirigetemi a nord adesso, pare che laggiù solo le squadre più affiatate riescano ad avere successo Agite all'unisono amici miei, la comunicazione è essenziale, siamo messi male allora Altrimenti sarete cibo per pesci, dice Kevin, non fare il maleducato, buona fortuna Grazie cipollotto, andiamo, 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 smetti di accarezzare cane Allora, ah qua ok, è comodo Final Mond Eh non lo so, è perché guarda che c'è neanche uno lì No, c'è il Final Mond 6-1, no, non lo so 5-1 Ah, e si sposta poi credo Allora, dimmi che dovevamo Ah, possiamo spostarlo No Ma scusa, tu vai di là Sì, vado di là, di cosa hai bisogno? Boh, di tutto Pesce Via Pesce, riso, devi darmi tutto Ah no, riso è di là Bravo, beh, bravissimo Nell'acqua, giustamente il pesce Giustamente tu sei un pesce, vai nell'acqua L'intelligenza di un pesce, quindi ti butti nell'acqua Allora, vai To, te lo lascio qua Sì, poi L'alghe, no, ce l'ho di là Banda, mi mentimi Pesce, carni E i cetrioli Ah, e ci devo tagliare qua però Oh mamma Non l'avevamo visto quello Pesce, carni e cetrioli, vai Quando ne hai un po' io me ne vado Qua riesci ad arrivare Non così, puoi lanciare le cose Eh, lo so Vabbè, senti Inizia a fare qualcosa tu, di lì Ok Mettiamolo a metà Tu lanci, io lancio le cose qua Perché non mi fa mettere il pesce? Ah, ma il pesce non devo Giusto, giusto Devo mettere il riso solo Sì Ok, però spostami il coso Del coso, dei cosi Ok, pesce, pesce Da, buttalo di qua Vai Aspetta, allora Ma che fai, prendi il pesce Vai di là Eh, che devo prendere? Lanciami le cose in mezzo Io puoi lanciare le cose di là Ah no, aspetta Però qua brucia tutto Vai, vai di là No Iniziato malissimo Credo che ci convenga Proprio per cominciare da cavolo No, vai sciallo Tranquillo Allora, si risolve tutto qua Tranquillo Va tutto a fuoco Io butto nell'acqua Vai, tranquillo Hai un stintore Sì, è qua Bravo Mi hai fatto Accidere Però Io non posso venire di lì Tranquillo Allora, calmo Calmo Un riso col pesce Abbiamo fatto zero Guarda quanto fuoco Guarda, il pelato Ah beh, ma il fuoco Che te frega del pelato Ma è divertente Allora, fammi prendere qualcosa Allora, guarda Non fa una piega E guarda Di cose bisogna pesce Ti faccio il pesce Di nuovo Allora, vai Devo fare altro riso Allora, riso Carne Riso Riso Ok Mi serve un pesce I piatti Mi serve un piatto Vai, premi tutto quello che vuoi Mi servono i piatti Allora, piatto Ok, piatto 1 e piatto 2 col panino Quindi il pane ce l'ho io Perfetto Allora, piatto 1 è fatto Piatto 1 è fatto Stai tranquillo Tranquillo che il piatto 1 è fatto Tranquillo Tieni, vai Veloce Aspetta, io cuocio la carne Vai, vai, vai pure Poi, un altro con cetriolo Mi serve un cetriolo Ok E un piatto pulito Te lo taglio pure no Sì, un piatto pulito anche Piatto pulito è qua Sto arrivando Ok, grazie Perfetto Dai, dovevamo fare così all'inizio Eh, ho capito Io piloto e prendo la roba Tu fai tutto il resto Eh, ho capito Forse fa Ah, no, ho buttato la carne Mi serve un'altra carne Ok, vado a prenderla No, poi mi serve un cetriolo tagliato anche Ah, ok Allora, tieni il cetriolo Prendilo subito Ok Eh, sei incazzato Vabbè, la carne e il cetriolo Una carne anche Eh, lo so, la devo tagliare Cetriolo è già pronto Qua Dai sto cetriolo Ah, col pesce anche Tiè Dai questo Dai questo Ma non era col pesce Sì, sì, è col pesce Vai, dallo, dallo Ma tu potresti prendere la roba Eh, lo so Gira tu, gira tu No, ho la carne in mano Vai, vai Mamma mia Ok, salvato Poi Cosa serve? Il panino cacca carne Lo faccio subito Mi serve un piatto pulito Eh, lo sto facendo adesso il piatto Con calma, eh Eh, cosa devo fare? Cosa ti serve ancora la carne? Sì, la carne Però io cosa devo cuocere? La carne c'è lì Sono carne Quindi io posso già mettere tutta la carne a cuocere In realtà se lo rifacciamo Perché tanto io Di cosa da cuocere c'è solo la carne Eh, la carne è il riso Ah, ti faccio la carne È il riso ma ce l'ho di qua Quindi tu mi devi fare tante carni Io me le porto di qua Sì E mi serve un cetriolo Sì, il cetriolo c'è E un piatto E il piatto devo andarlo a fare Quindi il cetriolo Eh, allora ti metto io tutte le cose qua Fatelo tu Va bene Toh, fatti il piatto Ciao Ah, ma c'è il piatto? Ah, un piatto c'è Non l'avevo visto Ma, ma Vai, vai a dare questo Forse riusciamo a fare una stella Se dai quelli Se dai quelli Forse facciamo una stella Forse Bene Niente, zero stella Eh, ma abbiamo iniziato male Hai bruciato tutto Per colpa mia Tu hai bruciato tutto Tu hai bruciato tutto Io ho bruciato tutto Poi Io ho bruciato tutto Ha ragione Stavolta io ho bruciato io tutto Però Allora, cosa ti serve? Pesce Allanciami delle canne Mettimi tutte le canne che puoi Aspetta col pesce Mettimi i carni Ah, è vero Tanto il pesce posso tenerlo io Eh, carni E i piatti li tieni in mezzo Io ti do le cose in mezzo Vabbè, intanto adesso te lo do Bravissimo Come un bello quel lancio Complimenti, eh Quello ha dato bene Sì, bravo Però anche quello magari tre Damme le tre Poi basta Se me le metti qua però Dai Grazie Tu togliti da qua No, mi sono salvato in corner Ok, vai Allora, io ti taglio un cetriolo intanto Allora, io faccio le canne Allora, lo tengo io Li tengo io I cetrioli e i pesci li tengo io Ok, intanto faccio i risi Poi io la roba le metto in mezzo I piatti stanno in mezzo Dobbiamo metterli in mezzo Così, bo Cosa serve allora? Un pesce che lo fai tu Un riso che adesso ti porto E E E Un coso di questi Va bene Quindi Riso te lo porto Perfetto E poi dopo un altro riso Quindi il riso qua ce l'ho anche già pronto Ok Guarda che efficienza Guarda che efficienza Ottimo To, due risi Perfetto E tu metti i cetrioli e pesci E il problema è che adesso Ok, la carne l'hai già fatta Io prendo i piatti E tu puoi dare di nuovo via Ok, vai Vai Ok, mi serve un panino La carne è già fatta Vedi che efficienza Metto già un'altra carne a fare Fammi due carni Tagliami tre carni Se hai voglia Intanto Io rimetto i risi a cuocere Una E voilà E che ci vuole E' facile Easy sto gioco Easy Easy Eh, mi sono organizzati un po' Carne c'è già nel piatto Ti metto il panino Voilà, a posto Io non ho più niente da fare Io e le carni sono qua Eh, aspetta che Aspetta che Se no mi si squoce il riso qua Io intanto faccio i piatti Perfetto Boh, vai Eccomi Vai, dai questo Ok Tu prendi le carni Poi dammi i piatti puliti anche Devi dare i piatti e la carne Sì Carne Eh, se fai così Ma perché Non è che perdiamo tutti e due Poi Ok, vai Allora Cosa serve Due risi Due risi Ti faccio due risi Eccoli qua Un altro cetriolo Perfetto Intanto li metto a cuocere Così cuociono Lavo un piatto Poi Cosa serve nei due risi Due alghe Giustamente Ok, perfetto Le alghe Faccio una carne E ne serve un altro riso Ma adesso cuoce Tieni, prendi tu i piatti veloci Che sono un brucio al riso E piatto Vai Ok Un piatto col pesce Perfetto E un piatto col cetriolo Poi devo farti un altro riso Mi servono i piatti però Devi lavare i piatti Ce n'è uno qua pronto Ok, va bene Allora Dammi tutti i piatti Che se no non posso fare nulla Eh, tutti Ce n'è solo uno Ah ok Ne è arrivato un altro Lo lavo e E' pronto Dammi Give me the piaz The piaz Uno E l'altro The piaz Fai anche l'altro va C'è anche una carne Dai, tu inizia a andare Dai, io inizia a te la faccia Vedo che stai inglesizzando Bravo, mi piace la cosa Ti do un riso qua E ti do fare il panino con la carne Quindi a carne Pie A carne qua Oh, prendimi La carne qua Perfetto Il pane Pie Ok Ok, perfetto Poi lì cosa devo fare? Riso l'alga Perfetto L'alga così intanto do quello Vai Ottimo Oh, l'ho messo nel formello Vai Allora, piatto Questo E questo qua tu puoi andare Grazie Io devo prendere Ti do fare un altro riso Che è già pronto Pesce E Cetriolo Alga Perfetto Questo è già pronto Metto una carne a cuocere Dove avere una padella libera Sì Metto una carne a cuocere Mettendo i due risi Qua una carne a posto Qua cetriolo lo metto qui Perfetto Guarda che efficienti Il sun station lo metto qua Perfetto Perfetto Ti do già questo Vai pure Mi servono piatti Fammi ne due va Così riusciamo a fare ancora due cose Anzi Aspetta Devo andare Aspetta che mi cuoce il riso qua Qua devo mettere qui due risi Che sono già a posto È bisogno di carne No, no, no Mi serve solo Dammi un altro piatto Che facciamo due risi ancora Tu taglia le cose intanto Sì, sì Sono posto Ok, perfetto Ok, dai Dai, lancio per terra Qua Veloce, veloce Ok, perfetto Vai, vai Il pesce Non riesco a farlo Vai, vai Fa il cetriolo Mettine Non riesce a fare qualcos'altro No Dai, dai che riesci Dai, tre Due No Prendilo No No, vabbè Ma io non ci voglio credere Meno male Se non facevamo tre stelle Ma come si fa È cliccavo Continuo a clicca il cerchio Vabbè in tre secondi Eh, vabbè Vabbè, dai Va bene Ti perdoniamo Perché abbiamo fatto tre stelle Vai, 5, 2 Dove vai Dove vai A premere il pulsante Altrimenti non sali Panini Paschino Panini Mi dio Ma tu Casinative Questi di Non sopporto Non capisco niente Allora Io taglio il formaggio Taglio Io le faglio La lattuga Chi mette la carne a cuocere però Metto io Ok Ce l'hai di lì Ah, ce l'ho anch'io Quella padella Però non la carne Conviene che la fai tu La carne Io faccio formaggio e pomodori E tu fai la lattuga e carni Lanciami una carne Io la metto a cuocere di qua Oh no Qualcuno deve No, allora la carne fai tu Io faccio l'estintore Va Lascia, lascia, lascia Lascia, lascia, lascia Dammi l'estintore È qua Se lo posso lanciare Eh, non ci posso È qua Ah, grazie Eh, cosa devo fare Ho carne? Allora, la carne è poi pronta Allora, che bisogna fare? Un panino con formaggio Eh, mi hanno chiuso lì Eh, anche me ha chiuso Ok, panino con formaggio Allora, il formaggio Eh, mi lanci il formaggio così No, dove è andato? Eh, è andato lì Oh Senti Dai Ok Perfetto Poi con lattuga e formaggio Devo fare un altro formaggio Perché quello mi si è usato Allora, lattuga e formaggio Sia formaggio che lattuga Lattuga ce l'hai? Formaggio anche Poi Che altro? Ah, è caduta la lattuga nel... Senti, non è colpa mia No, è di chi Tieni, tagliala Bravo, bravo, bel lancio, eh Mamma mia Oh, è andato così Oh, sticosi Oh, mi devi aiutare, mi devi aiutare Arrivo, arrivo, arrivo In soccorso In soccorso Ok Lattuga Ce l'hai già, giusto? Sì, la carne ce l'hai già La lattuga l'hai fatta? Vabbè, io La lattuga l'ho fatta Se riesco a fare il giro qua Prendo un altro Qua c'è formaggio, se vuoi No, il pomodoro È morto il pomodoro Hanno ammazzato il pomodoro Aspetta Io faccio un'altra carne La metto qua To, ti ho messo già pomodoro Ti ho messo già lattuga E c'ho anche già la carne Eh, io non posso venire lì, però Tranquillo, ci penso io Ci metto anche la carne Ok E ci metto anche il pane E lo do Lo do anche sto piatto Pensa un po' To, guarda che bravo Bravo Poi, lattuga e formaggio Lattuga e formaggio Lattuga e formaggio Signori formaggio Ho un panino che è quasi pronto Cosa ce li devi mettere dentro? Ok, il formaggio ce l'ho La lattuga mi manca La formaggio e lattuga devi metterci Lattuga devi farla tu Eh, la lattuga Eh, però non posso entrare Arrivo, arrivo Da nessuna parte Vai, vai, vai Vai, bravo, veloce Fai la lattuga Fai la lattuga Poi serve uno solo con carne Ce l'hai una carne sola? Una carne sopra Sì, è là Non sopra, sola Eh, è là, è là su Dai, dove, dove Quello Ok, perfetto Eh, non si può andare a consegnare la roba No, ci sei arrabbiato Ok Ok, quello E poi questo qua Perfetto Fuoco del Eh, era sbagliato Che hai fatto? Ho dato il piatto che mi hai dato tu Con la carne era, giusto? Con la carne E ho detto sbagliato Vabbè, dai, non stare lì a piangerti addosso Come coccodrilli Oh Vai a far qualcosa Io lavo i piatti Tocco, ero anche quello Ok Tu vai, io faccio Faccio carne Fai quello che vuoi Non mi interessa Sinceramente Uno solo carne Dov'è la padella qua? Non lo so Eh qua Qua Uno solo carne serve Io vado qua a spegnere i fuochi Eh, qua non posso andare laggiù Guarda che schifosi Guarda che schifosi Vado a spegnere io Uno mi sa che deve fare solo estintore Poi serve uno carne e formaggio Il formaggio ci già Piaci dove sono? Sono qua Sì No, sono caduto giù Eh, si può cadere Carne, fanno uno con carne e formaggio Che costa di più Oh no Mi hai chiuso qui Il pane C'è l'estintore là Eh, devo andarlo prendere io No, no E non ce lo facciamo È difficile questo Difficilissimo Fallimentarissimo Però almeno due stelle Due stelle Oh, per po' Eh, per sì Vabbè raga Direi che questo è un episodio fallimentarissimo Però No, perché? Eh, perché fallimentare Però noi vi invitiamo a vedere tutte le playlist del nostro canale Sia in descrizione che nelle info E continuare la visione Ci vediamo al prossimo di volcù Ciao Alla prossima Buon pranzo Buon pranzo